Guarda, non un pino, una stella e sono troppo colgate! Così sembrano delle confezioni regalo. E così non si capisce che dentro ci sono i buonissimi panettoni e pandorovi Stefani. Ce li mangeremo tutti noi. Lo diceva anche per Babbo Natale. E cin cin! Sarà un successo anche questa volta. E chi me lo garantisce? Lei! E chi sono io? Babbo Natale! Babbo Natale è più dolce che c'è. Babbo Natale è più dolce che c'è.